Scusa, sai che ore sono? Sono le tre e mezzo Scusa, sai che ore sono? 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 Buongiorno, l'aspettavamo ieri Sì, ho telefonato per avvertire È vero, ha parlato con me e mi sono dimenticata di dirtelo Vabbè, comunque noi domani partiamo Ah, non c'è problema, io per stasera ho finito D'accordo Francesca, è tardi, andiamo? Senta, noi andiamo Torneremo verso le otto Se hai bisogno di qualcosa c'è di là mia figlia Arrivederci Arrivederci Buon lavoro Arrivederla Scusate Scusate Di che colore devo dipingerla? Di bianco Di bianco, certo Mi sembrava infatti Da stacìn Scusate Scusate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Hai mica visto un foglio di tono spartito? No, credo di no. Ah, eccolo. Sai, mi piace molto la tua musica. Non è mia, è Sansan. Ah, ciao, io sono Orazio. Clara. Non è possibile. Mi dispiace, non so cosa mi è successo. Guarda, te lo cancello subito. No, 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 che fai? Come? Faccio il mio lavoro, no? Ma scherzi, è bellissimo, a me piacerà tantissimo. E se invece si incazza... Guarda, io li conosco. Se piace a me, piacerà anche a loro, va bene? Allora, dai, schiavano. Senti, si può avere qualcosa da bere, non so? O d'acqua? Va bene, vado a vedere. Senti, si può avere qualcosa da bere, non so? Senti, si può avere qualcosa da bere, non so? Senti, si può avere qualcosa da bere, non so? Senti, si può avere qualcosa da bere, non so?